Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al recap della giornata di oggi, 19 maggio 2020. L'analisi ciclica ci aveva detto che ci sarebbe stato un top fatto, ma poi immediatamente, volumi, 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 volumi a ribasso, discesa, e siamo arrivati a questo minimo, a 10.936. Voi direte, caspita, ma perché 10.936, divergenze quando sono arrivate, viste o altro, eccetera? Nulla di tutto ciò. Semplice livello algoritmico e ho deciso di dare i livelli algoritmici a tutti, oggi, per cui avevo messo i 10.941 di DAX Index e abbiamo fatto 10.936. 5 punti di differenza, poi, stranamente, senza divergenze di breve, perché non c'erano, abbiamo rimbalzato sul nulla, perché non c'era neanche la media mobile o altro, potete vedere anche sul grafico delle medie mobili, qui c'era invece la media mobile più rapida, ma da qui, da questo minimo, da 5 tic di differenza rispetto a livello di algoritmico, siamo partiti a rialzo. Creato lo swing, molta forza, perché 4 candele a rialzo, una quinta che non ce la fa e che appunto dà vita lo swing a 11.052, prima violazione, inizio a inserire un chip e poi dico, va bene, vediamo se effettivamente continua. Nessuna continuazione, ritest degli 11.057, quindi superamento dei 52, superamento dei 55, è possibile chiusura del primo t-3 inverso, proprio qui, a 23 bar, 22 bar, 23 bar, scusate. Anche questo livello, 10.051, andiamo un attimo a dare un'occhiata, eccolo qua, 11 tic di differenza rispetto a quello che è stato fatto, quindi 5 e 11, e riecco che non riusciamo a superare, tra l'altro con i corpi, appunto, il livello di 11.040 definitivamente. Attendo un movimento e Powell che parlava attorno alle 16, discesa, Powell parla, rimbalzo con divergenza di continuazione rialzista, si ritorna esattamente indietro, quindi quanto è contato il discorso di Powell? Niente. E poi a un certo punto, prima candela verde forte, quindi finta rialzo, finta ribasso, rialzo, candela d'oggi che dovrebbe dire stop a rialzo, ultima candela della giornata, long. Quando sono ritornato in pari, ok, ho detto, ultima candela, sì, se oltretutto il secondo t-3 inverso non è partito da qui, ma è partito da qua, io non voglio rimanere dentro se eventualmente si tornerà a scendere, perché chiuso il primo t-3 inverso, che può tranquillamente essere tutto questo, 33 barre, sul minimo 22, massimo 44, io non voglio rischiare di dover rivedere una discesa, un t-5 inverso rialzista, che mi riporti magari di nuovo sotto i livelli degli 11.040, e che mi costringa a rifare tutto da capo, con peraltro un rischio overnight che non ha alcun senso tenere. Per cui ho segnalato che avevo chiuso qui, con 6 euro di gain, ben 6 euro di gain, in e-trade, e finalmente sono riuscito ad uscire da una roba che non ce la si faceva più. Tra l'altro un trading range da 11.050 circa, a 10.957, quindi 83 tick, è stato di una noia mortale e continua, per cui sinceramente avevo voglia di liberarmi di questa zavorra. Avrò fatto bene o no? Avrò fatto male? Non lo so, perché in questo momento, vediamo un pochino che cosa stanno facendo i future sui mercati. Allora, meno 28 punti, in questo momento non ho fatto male, mettiamola così. Se dovesse peraltro peggiorare l'inizio della giornata di domani, rivaluterò uno short dopo l'eventuale chiusura del quarto T-3, che peraltro non ha ancora chiuso, perché qui anche è arrivato a 17 barre, qui è arrivato a 20, minimo sono 22, quindi entro le nove e mezza, minimo, dovrebbe provare a scendere, al massimo può continuare a fare quello che vuole, lateralizzare anche fino a 44 barre, e poi però scendere. Per cui prendersi un rischio non necessario di questo tipo non aveva molto senso per me. Cosa ho fatto? Ho fatto anche un altro ragionamento, perché il ragionamento più importante nella realtà dei fatti è questo. Per far partire un nuovo T settimanale inverso, c'è bisogno perlomeno di un sottociclo di due gradi inferiori, lateral rialzista di inverso, ovvero ribassista di indice da questo massimo a questo massimo. Ce l'abbiamo già? No, non abbiamo ancora le 12 ore minime, in realtà 11 ore, per cui 11 ore, 6, 11, per 4, 44 candele, siamo a 33. Abbiamo ancora bisogno di 11 candele, quindi 4, 8, 4, 8, 12, quindi circa 3 ore. Se vuole partire il secondo T-3 da qui, può tranquillamente partire, riportarci verso la cumo, e poi finalmente partire, vincolarsi verso l'alto. oppure, se in realtà fosse già partito da qui, è già vincolato verso l'alto, e quindi lo scopriremo di nuovo domani mattina. Non ho voglia di trovarmi in posizione di svantaggio, dopo una giornata di attesa, superamento dello swing, discesa, superamento dello swing, discesa, superamento dello swing, e finalmente ripartenza verso l'alto, come mi ho aspettato. Oltretutto, mi aveva fatto piacere acquistare sotto il prezzo di chiusura, o comunque il massimo della giornata di ieri, sì, anche sotto il prezzo di chiusura, perché, come sapete, la mia view è long, come sapete, siamo in Golden Cross, siamo sopra la media mobile, scusate, sì, sopra la media mobile a 50 periodi, che ha fatto da supporto, guardate bene, passa qua, da supporto, oltre alla divergenza, per la salita, fantastico, adesso però, fuori e a riflettere. Se avremo quelle 44 candele, come abbiamo detto, 44, sì, candele, sotto questo massimo a 11.200, avremo la condizione sufficiente per la partenza di un T inverso, che andrà a vincolarsi progressivamente a ribasso, se andrà a violare il massimo a 11.200, quindi se l'indice supererà questo 11.200. Per cui, questa è la mia attesa, ma domani avrò la possibilità di capire se ho fatto bene appunto a non entrare in overnight e se effettivamente il secondo T-3 inverso può partire eventualmente o da questo massimo o da uno successivo e magari avere una cosa di questo tipo, magari non così lunga, anche domani stesso. Per quanto riguarda invece il Fuzzi Nib, la situazione, come vi dicevo, da sempre è peggiore, nettamente peggiore a livello di forza, abbiamo perso una quantità di punti da questo massimo a 17.612 a questo minimo a 17.008, abbiamo perso 604 punti, per cui torno a dirvi qui la forza relativa è nettamente più bassa e purtroppo mi è sfuggito il fatto che se qui effettivamente era partito il terzo T-3 come mi aspettavo, perché questa è una partenza di qualche cosa sicuramente, in violazione di questo minimo avrei potuto eventualmente valutare uno short. Qui sarebbe stato estremamente più comodo e oltretutto non è più vietato dalla mezzanotte di ieri, per cui in violazione di qua purtroppo no, eravamo ancora a 17 barre, avrei potuto provare a vedere cosa succedeva, 2 barre sarebbe sceso, avrebbe poi provato a risalire per l'accumo quindi probabilmente avrei chiuso con pochi tic, ritornando poi qua sulle due medie mobili avrei valutato effettivamente se entro un T-5 in alzista fatto da 1, 2, 3, 4, 5 alla sesta candela di nuovo violazione sarei rientrato short e mi sarei portato a casa una gran bella operazione. Non ho fatto attenzione perché non ho avuto tempo per cui adesso tornerò a fare attenzione anche un po' di più al Fuzzimib per il fatto che si possono utilizzare sia il long che lo short e non c'è più bisogno appunto di ageggiare eventualmente la posizione. Questo direi che è quanto, vi lascio con quest'ultima immagine di debolezza fortissima sempre per il Fuzzimib e vi auguro una splendida giornata. Per me lo sarà comunque e anche se soltanto abbiamo portato a casa la miseria di 6 euro. Buona giornata a tutti!